La metà dei dipendenti non ha il green pass, in un'azienda pesarese ed attori di lavoro Pagheranno tre tamponi a settimana ai lavoratori non vaccinati Dolori, febbre ed eccessi Su Fano TV le testimonianze sui problemi di salute accusati dopo la somministrazione del vaccino Che io sappia no perché la causa è stata stabilita con questa cardiopatia congenita E quindi ci abbiamo rimesso un collega per caso due giorni dopo la seconda dose A Fano un imprenditore edile non paga l'IVA, sequestrati soldi e immobili per quasi mezzo milione Ospedale nuovo, Ricci continua la battaglia, la politica urbanistica la fa il comune ha detto E l'ospedale è a muraglia, la regione la smetta di perdere tempo, fatti chiari e amicizia lunga Concluso a Fano il concorso di idee per il waterfront Ecco come sarà il lungomare, da Sassonia a Ponte Sasso, spazio agli alberi, prati, sentieri e piste ciclante Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia Dal 15 ottobre l'obbligo del Green Pass verrà esteso a tutto il mondo del lavoro, sia pubblico che privato Noi oggi abbiamo intervistato una imprenditrice di Pesaro che pagherà i tamponi a ben 15 dipendenti su 30 totali che non hanno il Green Pass L'azienda è fatta soprattutto di persone che debbono essere trattati come esseri umani Perché io oggigiorno vedo che c'è proprio mancanza di fratellanza, di unione, di comunicazione Che è fondamentale, specialmente quando tu vivi all'interno di un'azienda perché è più il tempo che tu passi assieme che quello che passi a casa tua, capisci? Quindi per me è veramente molto importante Lei e Arianna Costarelli, titolare insieme al fratello di un'azienda pesarese che si occupa di ascensori Hanno 30 dipendenti, 15 dei quali sprovvisti di Green Pass Il certificato verde che dal 15 ottobre sarà obbligatorio anche per accedere ai luoghi di lavoro Nel settore privato i controlli spettano ai datori di lavoro che con atto formale possono anche individuare soggetti incaricati dell'accertamento Il governo ha precisato che se le verifiche vengono effettuate a campione sui dipendenti Le aziende non incorreranno nelle sanzioni nel caso in cui un controllo delle autorità dovesse riscontrare la presenza di lavoratori senza Green Pass A condizione che siano stati rispettati i modelli organizzativi In caso contrario i datori rischiano una sanzione da 400 a 1000 euro Invece il lavoratore senza passaporto verde incorre in una multa che va dai 600 ai 1500 euro C'è trovarsi dall'oggi al domani con degli obblighi pesanti e diventa difficile La scelta che è stata fatta è stata quella di radunare i Green Pass di tutti Di fare i tamponi per i ragazzi che non si vaccineranno Perché abbiamo una buona metà dei ragazzi che hanno deciso di non vaccinarsi Per quanto riguarda il costo io ho parlato con mio fratello e abbiamo deciso di assorbirlo noi come azienda Però come ti dicevo prima non abbiamo avuto un attimo di dubbio Perché capiamo che 200 euro, 250 euro per una persona che prende uno stipendio sono tanti Ed ora come si sono organizzati i suoi dipendenti per i tamponi? Allora loro si sono organizzati che tre volte alla settimana Chi non ha il vaccino andrà a fare il suo tampone Lunedì sera, mercoledì sera e venerdì sera solo le persone che fanno la reperibilità Perché noi lavoriamo tutti i giorni compreso sabato e domenica E chi invece non sarà in reperibilità andrà al sabato sera così lunedì sarà coperto Quindi diventa anche una gestione doppia per quanto riguarda l'organizzazione, la logistica Secondo voi quali sono i rischi? Queste nuove disposizioni possono anche compromettere la competitività delle aziende? Allora sì perché io tu sei un'azienda strutturata E quindi se sei strutturata puoi permetterti di far determinate cose Se non sei strutturata diventa molto più faticoso Perché capisci che comunque sia il costo del personale Cioè assumere una persona che faccia solo quello è difficile Inoltre a proseguito Arianna c'è un altro problema Secondo me ha detto quello che viene fatto ad alti vertici Viene fatto per eliminare le piccole e medie imprese Mettendo tutto nelle mani dei grandi gruppi Quello che mi dispiace e sono convintissima Che svenderemo tutto alle multinazionali Tutti, tutti faremo così Cioè la piccola e medie imprese da qui a 10-15 anni Secondo me andrà a sparire in Italia Ed è triste, è veramente tristissimo Perché come i medici secondo me all'inizio avevano il potere Di poter fermare questa cosa se si sarebbero opposti Con coscienza ovviamente E noi potremmo fare la stessa cosa Cioè non dare l'Italia in mano a chi fa gola Perché c'è parecchia gente a cui l'Italia fa gola E c'è anche un'altra azienda di Numana ad Ancona Del settore arredamenti tessili Che sosterrà in toto fino alla fine dell'anno Il costo dei tamponi necessari per il Green Pass E dei propri dipendenti Affinché in nessun caso e a nessuno Venga vetato il sacro santo diritto al lavoro A spiegare la scelta e a rilasciare queste dichiarazioni a Lanza È Gian Lorenzo Fiorenzi Amministratore delegato di Sailmaker International SRL L'azienda che ha 26 dipendenti Ha assicurato a tutti i collaboratori compresi Che lavorerà fattivamente per evitare lotte e divisioni Ha detto Fiorenzi Che la pandemia ha esasperato nella relazione tra persone Nel dibattito pubblico e nelle aziende E torniamo a Pesaro Perché dopo Arianna abbiamo raccolto la testimonianza Di alcuni dei dipendenti Che hanno avuto problemi di salute dopo il vaccino Comunque conoscono chi si trova in questa situazione Un dipendente dell'azienda è morto due giorni dopo la somministrazione del siero Dolori, febbre e addirittura la morte Non in tutti i casi sono stati eseguiti gli accertamenti necessari Per verificare se i problemi di salute post in oculazione Possano essere considerati effetti collaterali legati al vaccino anti-covid Fatto sta che stanno aumentando le testimonianze Di chi ha accusato in prima persona alcuni sintomi Oppure conosce chi li ha avuti In questa azienda pesaresa alcuni dipendenti Ci hanno raccontato anche cosa ne pensano Della vaccinazione e del Green Pass Che tra circa due settimane sarà obbligatorio Nei luoghi di lavoro Effetti devastanti perché abbiamo perso un collega Che conoscevo da anni Con cui collaboravamo Superata da poco la cinquantina Dopo due giorni dalla seconda dose Ci ha lasciati Per cardiopatia congenita Risulta quantomeno strano Che uno che ha superato i cinquanta Non abbia mai fatto in vita sua Un elettrocardiogramma Una visita cardiologica Sarà una coincidenza Però questo collega l'abbiamo perso A Massimo Cacciatori Questo è il nome del collega deceduto Durante il richiamo era stato somministrato Un vaccino diverso rispetto a quello ricevuto All'appuntamento per la prima dose Originario dell'Abruzzo dove lavorava Era controllato costantemente Ha proseguito Nicola Perché per il tipo di mansione che svolgiamo Siamo sottoposti a check-up rigorosi E lui come noi era sano come un pesce Ora proseguiranno degli accertamenti Per verificare un legame con il vaccino? Che io sappia no Che io sappia no Perché la causa è stata stabilita Con questa cardiopatia congenita E quindi ci abbiamo rimesso un collega Per caso due giorni dopo la seconda dose E questo è tutto ciò che ci è dato sapere Nicola al contrario non si è vaccinato Io che ho fatto il tampone ieri Sono sicuro di essere negativo L'equazione vaccinati uguale immunizzati Ormai credo sia scontato Che è un'equazione che è sbagliata Perché i vaccinati sono contagiabili e contagiosi A condividere questo pensiero È Alessandro Capuano 56 anni originario del milanese Che ha scelto di non vaccinarsi Anche lei conosce qualcuno Che ha avuto problemi dopo il vaccino? Certamente Io conosco due mie amiche Che hanno avuto delle reazioni avverse In particolare Si sono svegliate a distanza di qualche ora Avevano una sensazione di caldo E rimanevano praticamente bloccate Praticamente si sono sentite come bloccate Per cui sono andate in processo di soccorso La cosa si è risolta Diciamo fortunatamente si è risolta Però essendo queste persone perfettamente sane Le conosco molto bene Diciamo che la correlazione con questo ci deve essere assolutamente Cristian lei invece si è vaccinato Ha avuto dei problemi dopo la somministrazione oppure no? Sono stato molto male per circa tre giorni Ho avuto febbre, diarea, vomito, mal di testa Giramenti di testa specialmente E anche un forte bruciore nella mano Che ancora sta continuando però non in maniera grave Che vaccino gli è stato somministrato? Mi è stato somministrato il Pfizer E poi ha fatto anche la seconda dose? Poi ha fatto anche la seconda dose Infatti alla seconda dose diciamo sono stato molto male Ad aver avuto problemi di salute dopo l'iniezione Anche la sorella di Emiliano Dulizia Lei 44 anni in piena salute Ci racconta Emiliano Ha ricevuto il famoso mix di vaccini Ha accusato vampate di calore, vomito, tremore Non riusciva a stare in piedi Ha precisato il 47enne Oggi a distanza di quasi tre mesi Dalla somministrazione Soffre ancora di questi disturbi Ed è invalidante Ha commentato Emiliano Che ha aggiunto I medici però non ritengono Che ci sia una correlazione con il vaccino Poi il dipendente ci ha detto la sua Sulle nuove norme imposte dal governo Va a lenire la Costituzione italiana Che è basata sul lavoro Sul diritto del lavoro E quindi dopo che una persona paga le tasse E tutte Si trova a dover affrontare una spesa Che non è indifferente Per venire a lavorare Altrimenti deve sottostare a un trattamento Di cui non è sicuro Di cui non vuole essere trattato Mi sembra una cosa molto ingiusta Discriminare chiamando le persone Non persone Ma vaccinati e non vaccinati Come usare la distinzione fra due persone Solamente per il colore della pelle Mi sembra una cosa molto ingiusta Le testimonianze e le interviste integrali Saranno disponibili da domani Sui nostri canali social Adesso passiamo all'aggiornamento Sul covid nella nostra regione Nelle ultime 24 ore Morto un uomo di 94 anni Residente da Scolipiceno Aveva patologie pregresse I nuovi positivi sono 71 Di cui 21 nella provincia di Pesero e Urbino Mentre i ricoveri salgono a 75 Rimane invariato il numero dei pazienti In terapia intensiva Mentre in quella semi-intensiva Ci sono due degenti in più Rispetto a ieri In regione continuano a fare confusione Così si perde solo tempo Il sindaco di Pesero Matteo Ricci Interviene sull'ospedale nuovo Dopo le dichiarazioni Dell'assessore regionale Filippo Saltamartini Sul sito della struttura La politica urbanistica La fanno i comuni E non la regione Sottolinea Ricci Il comune di Pesero Non farà mai una variante urbanistica Ne rilascerà un permesso Per costruire a case burciate Che è un'area verde e agricola Con un vincolo idrogeologico Basta proseguito Ricci I medici migliori Scapperanno altrove Con questa melina Il presidente Acquaroli Ha condiviso con me Le tre precondizioni Per fare un accordo Che l'ospedale si faccia a Muraglia Con un progetto modulare E senza toccare L'azienda ospedaliera Settembre doveva essere Appunto il mese dell'accordo Ma è diventato il mese Delle chiacchiere Nelle marchi A concluso Ricci Si dice spesso Patti chiari E amicizia lunga Cambiamo argomento Un imprenditore Sulla sessantina È finito nei guai Perché non ha pagato L'IVA Per un importo Di 450 mila euro Oltre al denaro La guardia di finanza Di Fano Gli ha sequestrato Un appartamento A Monteporzo E un edificio Dell'azienda Che ha la sede Nella zona industriale Di Bellocchi Il servizio Di Letizia Marchionni La compagnia Della guardia di finanza Di Fano Su disposizione Del giudice Per le indagini Preliminari di Pesaro Ha dato esecuzione Al decreto di sequestro Preventivo Per equivalente Per un importo Di circa 450 mila euro Del denaro presente Nei conti correnti Bancari E di altri beni Nei confronti Del rappresentante legale Di una società Di costruzioni Responsabile Di una consistente Evasione fiscale L'operazione È stata portata a termine Grazie al lavoro Svolto in sinergia Da procura Agenzia delle entrate E guardia di finanza A seguito Di un accertamento fiscale Per omesso versamento Dell'IVA Per l'anno D'imposta 2016 L'agenzia delle entrate Di Pesaro Ha segnalato L'indagato All'autorità giudiziaria Il giudice Per le indagini Preliminari Ha accolto La tesi Della procura Ed ha emesso Il decreto Di sequestro preventivo Per equivalente Di denaro e beni Fino alla concorrenza Dell'importo Dell'evasione fiscale La compagnia Di Fano Infine Ha svolto Tutti gli ulteriori Accertamenti Per risalire Alla capacità Patrimoniale E finanziaria Dell'indagato Al termine Delle indagini È stato Così possibile Sottoporre A sequestro Alcune disponibilità Liquide Presenti Sui conti Correnti Bancari E tra unità Immobiliari I cui valori Hanno consentito Il raggiungimento Della capienza Prevista A Fanno La giunta serie Ha approvato Il nuovo piano Di asfaltature Previsto Per il 2022 La cifra stanziata Si aggira Sui 4 milioni Di euro E le strade Sulle quali si interverrà Sono state individuate Dagli uffici Che hanno tenuto Conto Di vari aspetti Lo stato Dell'infrastruttura Della pericolosità Del rischio E del potenziale traffico L'elenco delle vie Lo trovate Sul nostro sito Occhio alla notizia Punto it E rimaniamo a Fanno Perché ieri Sono stati Illustrati I vincitori Del bando Waterfront I progetti Dei vincitori Vediamo allora Nel servizio Di Filippo Pucci Come diventerà Il lungomare Di Fanno Da Sassonia Ponte Sasso Che sia la volta buona Per il waterfront Della città di Fanno Sono stati presentati Ieri in conferenza stampa I progetti Dedicati alla riqualificazione Del tratto di costa Di Sassonia Torrette E Ponte Sasso Sette Le proposte Arrivate al comune E due I vincitori Ad aggiudicarsi Il premio Di 15.000 euro Del waterfront urbano E Andrea Govi Architetto 29enne Di Milano Che ha rappresentato Un parco verde In riva al mare A torrette E Ponte Sasso È stato giudicato Migliore il progetto Presentato da Pro App Italia Dove anche qui È stata riconosciuta La somma di 15.000 euro Nello studio Si valorizza La connessione Tra il lungomare E il quartiere Delle comunità Con dei focus Dedicati alla mobilità Dolce E agli spazi aperti Ora Ai vincitori Andrà la progettazione Esecutiva Delle due sezioni 2,5 milioni di euro Per il waterfront A Sassonia E 1,5 milioni Di risorse Per quello di Torrette E Ponte Sasso Soddisfatti Il sindaco Massimo Seri E il vice sindaco E assessore All'urbanistica Cristian Fanesi Abbiamo già stanziato Le risorse Sia per la realizzazione Sia per la prima parte Della progettazione Proprio perché Vogliamo dare Questo effetto Importante Tornando Ad evidenziare Che il nostro Waterfront È legato Alla nostra Città Per quello che riguarda Nord Del fiume Metauro Come la parte Sud del Metauro Dove c'è la presenza Maggiore anche Di strutture ricettive Con una forte Vocazione turistica Ecco Che da tanti anni Aspettava Una rivalutazione Una riqualificazione E con questo Percorso Che io auspico Che si arrivi Entro la fine Del mandato Un intervento Che veramente Trasformerà La nostra città E questi due Progettisti Riceveranno Dal comune di Fano Un incarico Per la progettazione Esecutiva Dei due progetti Ma Certamente Continuerà In questo periodo Di tempo Uno scambio Continuo di idee Tra i progettisti Tra l'amministrazione Comunale E i residenti E anche gli operatori Economici E commerciali Perché appunto Il waterfront È una grande possibilità Per la città di Fano E quindi Vogliamo usarla Nel miglior modo possibile Coinvolgendo tutti E cercando di fare Il meglio Per la città di Fano Per i prossimi 50 anni Vorremmo creare Lì lo stupore Di venire a Fano E vorremmo farlo Dialogando con tutti Ma raggiungendo I nostri obiettivi Che sono quelli Di rendere Fano Città più bella Più accogliente Più vivibile E se possibile Vorremmo che se ne parlasse a lungo Di Fano Quanto è bella E di quanto è bello Questo waterfront E questa era L'ultima notizia Del nostro telegiornale Tra poco Trasmetteremo Le previsioni del tempo E poi uno speciale Dedicato a Fano Fiorisce L'informazione Torna domani mattina In diretta alle 7 Con il commento Alla stampa Del nostro direttore Marco Ferri Buona serata a tutti voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti